Sono tanti progetti particolarmente significativi che vengono realizzati dalla Rotary Club di Orta San Giulio. Uno dei più importanti negli ultimi anni riguarda anche la salute dei bambini e in modo particolare un aspetto che forse viene spesso sottovalutato, che è quello della vista degli occhi dei bambini. Abbiamo cercato di offrire il nostro servizio, che non è assolutamente un servizio medico, andando ad intercettare quelle che attraverso una simpatica macchinario che regista se i bambini hanno o meno difetti di vista, se possono essere questi difetti corretti o meno. Sono circa 500 in questi due anni i bambini che sono stati convolti in questo progetto, insomma un risultato importante, significativo. Sì, esatto. I bambini fanno parte delle scuole materne degli istituti comprensivi che circondano la Godorta. Quest'ultimo anno sono ben tre gli istituti comprensivi che hanno partecipato, che sono l'istituto comprensivo San Giulio di San Maurizio, l'istituto comprensivo Giovanni Pascoli di Gozzano e l'istituto Filippo Maria Beltrami di Omegna. Per un totale di 10 scuole materne che hanno partecipato e 150 bambini circa che sono stati sottoposti a questo screening. Lo screening non è una visita medica, ma è uno strumento diagnostico di prevenzione che permette ai genitori di individuare delle problematiche che questi bambini possono avere, ma che ancora non hanno comunicato di avere, perché magari non se ne sono resi conto. Si tratta di difetti visivi che individuati in questa fascia di età, che è quella dei 5-6 anni, quindi l'età prescolare, permette di intervenire in modo semplice e spesso di risolvere il problema senza una terapia medica invasiva. Quest'anno l'esito è stato leggermente migliore rispetto a quello dello scorso anno, perché circa il 35% dei bambini è stato indirizzato poi verso una successiva visita medica di controllo. Che tipo di patologie o di problematiche avete riscontrato? Allora, attraverso lo screening viene ricercata principalmente l'ambliopia, quindi l'occhio pigro. In realtà poi sono stati individuati anche altre tipologie di difetto, in particolare l'amiopia e i problemi di fissazione.